Questa stagione Il Milan accorcia lo svantaggio Che adesso è di due reti Chance per tirare Una grandissima giocata di Mandzukic Si è coordinato la grande e l'ha messa dentro Al volo tra l'altro Il cross era bello Ma lui ha fatto qualcosa di ancora più bello Un tiro al volo davvero fantastico E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato Mandandolo in campo